tanta voglia per tutti ragazzi qui mister ferrix siamo a fine mese e ovviamente eccoci con le top up del mese by ferrix vi ringrazio tantissimo per i risultati del mese scorso vedo che questa serie vi sta piacendo quindi continuate a sostenermi con tanti like nei commenti fatemi sapere se queste app che vi parlo di cui parlo questa quest'oggi le avete già usate o se ci andrete a giocare o meno eccoci qui ragazzi bibitan primo gioco però mostro già un po calato così mentre il gioco si consiste nel distruggere questi quadrati che vedete qui a schermo l'obiettivo del gioco è quindi fare una specie di record non c'è nulla di complicato da capire e bisogna distruggere tutti questi quadrati che aumenteranno diciamo il numero di botte che dovete dare con queste palle andando avanti di livelli a livello 13 ad esempio i nuovi quadrati svilupperanno una vita diciamo da 13 che dovranno avere 13 colpi di palla per poter essere abbattuti la difficoltà di questo gioco sta ovviamente nei livelli più alti e per migliorare diciamo la possibilità di distruggere questi blocchi dovete prendere questi croci che vi daranno delle nuove delle nuove palle per poter diciamo aumentare e le botte che potete dare a un quadrato il gioco come detto è semplice bisogna semplicemente andare avanti con i livelli il mio record a 113 sul cellulare giochino carino e c'è anche un mister egg che non sono riuscito a capire ancora ovvero cosa succede alla fine di questo countdown ragazzi quindi nei commenti se qualcuno di voi è arrivato a 30 minuti fatemi sapere che succede secondo gioco di oggi ragazzi c'è altos aventure che prende uno skateboard un anzi uno snowboarder che deve andare giù per la collina e recuperare i suoi lama il gioco è molto semplice a livello tecnico ma veramente difficile a livello scusate a livello tecnico abbastanza difficile e intrigante perché bisognerà fare anche dei trick per poter prendere il punteggio a livello diciamo teorico è molto semplice perché insomma non bisogna fare nulla di particolare e la cosa che mi piace molto di questo gioco è l'aspetto proprio rilassante perché il paesaggio cambia il paesaggio disegnato molto bene sullo sfondo mi piace molto c'è la possibilità anche di diciamo cambierà ci sarà il tramonto l'alba eccetera e soprattutto come vedete ci sono vari trick che si possono fare e si può anche diciamo migliorare quello che riguarda poi il gioco in sé tramite lo shop questo qua che state vedendo è il tutorial molto semplice ci sono poi delle sfide giornaliere che possono essere fatte in base ai livelli che diciamo renderanno il tutto molto più avvincente il giochino come detto non è nulla di eclatante però penso che se lo usate magari mentre siete a scuola che non vi ha di vedere una lezione una buona 10 minuti quarto d'ora con questo giochino lo passerete e qui ragazzi partono i giochi bomba signori altro gioco spettacolare per cellulare o tablet della marvel ovvero la marvel avengers academy quindi la cosa bellissima anzi academy con una c la cosa bella ragazzi è quella che avrete un gioco diciamo che non è innovativo perché di questi tipo di giochi in cui bisogna mandare il pupazzetto a fare la missione costruire la città diciamo se ne vedono a bizzeffe però la cosa bella signori e che avrete tutti quanti i personaggi della degli avengers quindi avrete iron man avrete black white ovvero ci sarà anche lo che quindi anche i cattivi entreranno in questa accademia signori ed è veramente figo non tanto per il sistema gioco che come detto ce ne sono tantissimi quindi diciamo è quello di far fare delle missioni e collezionare gli oggetti però la cosa bella signore è proprio quella di avere tutti i supereroi guardati ho già sbloccato iron man c'è la donna ragno c'è c'è wasp c'è l'occhi la vedova nera ci sono tantissimi e supereroi guardate anche capitano america in qualche parte ci dovrebbe essere hulk c'è ant man quindi basta andare avanti sviluppare la propria accademia quindi qua vedete poi ci sono le classiche cose che bisogna migliorare anzi ampliare il proprio spazio per creare un'accademia sempre più grande e come detto il giochino è molto semplice però non richiede troppo sforzo perché uno di quei classici giochi per cui voi ecco prendete qui le missioni mandate queste sono missioni fatte si riscuote si riscuote il premio ci sono le nuove missioni e si mandano i personaggi a fare le missioni quindi ci sono delle quest principali delle queste secondarie per cui si mandano a fare le missioni ovviamente anche questo gioco si sfruttano le gemme quindi vi verrà chiesto se volete gemmare qualcosa per migliorare la c'è per essere più veloci quindi ci sono delle delle attività che richiedono gemme soltanto per poter essere velocizzate altrimenti non rimangono richieste quindi un giochino veramente carino molto ben fatto anche la grafica le animazioni sono veramente molto belle l'altra app ragazzi ovviamente clash royale abbiamo squagliato tutti quanti durante questo febbraio clash royale per chi ha già ai os abbiamo già portato la guida e se invece siete androediani e non sapete come giocare a questo fantastico gioco qui sotto in descrizione troverete tutto diciamo non mi soffermo troppo su clash royale perché tutti quanti penso che ormai lo conoscerete ragazzi gioco bellissimo icon tube ovvero indovina lo youtuber avrete l'immagine cartonata ragazzi dovrete indovinare lo youtube ovviamente ragazzi gli youtuber sono i più famosi e dovrebbe essere quasi su tutta su youtube italia questo ovviamente fa vj ragazzi ed è veramente molto carina questa app in quanto non so quanti livelli sono credo che si siano intorno ai 90 e dovrete indovinare tutti quanti gli youtuber fino arrivare verso la fine quindi potrete mettervi lì anche con i vostri amici e vedere chi conosce più youtubers bene ragazzi anche questo video finisce qui fatemi sapere qui sotto le app se le conoscevate e consigliatemi altre app da poter utilizzare nel mese di marzo da ferex è tutto noi ci diamo un altro video ovviamente prima vi ricordo di passare da tutti i nostri social dal profilo instagram ufficial di guagna e dal profilo instagram di tutti noi dello staff ognuno al profilo privato della nostra pagina facebook ovviamente al nostro sito internet per rimanere aggiornati con tutte le news da ferex è tutto e noi ci diamo un altro video